Il maltempo ha creato disagio anche a Prato. Le forti piogge della notte e lo scioglimento della neve caduta nei giorni scorsi in montagna hanno fatto alzare il livello dei fiumi Ombrone, Bisenzio, Calice e Calicino. Castelnuovo a sud di Prato è finita nuovamente sotto l'acqua. La strada principale che attraversa l'abitato è stata chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute due squadre del sistema di protezione civile e una dei vigili del fuoco con una idrovora. In Val di Bisenzio gravi problemi a Schignano dove è caduto un muro di contenimento in via Bertini. La strada è stata chiusa per permettere agli operai di rimuovere i detriti. Problemi segnalati anche sulla strada provinciale 2 nel comune di Cantagallo con un'altra frana che ha invaso la sede stradale. 15 le squadre della protezione civile che hanno lavorato sin dalle prime ore della nottata, dalla tarda mattinata di oggi, le condizioni meteo sono migliorate e di conseguenza il livello dei fiumi è sceso e l'allarme è rientrato. Per l'intera giornata di domani è prevista una criticità di tipo ordinario.